Buongiorno a tutti cari amici e ben ritrovati. Siete pronti come ogni settimana al nostro piccolo incontro di piccoli breviti? Siamo al nono capitolo. Mi spiace un po' sapete perché sapete che arriverà fino al decimo e non oltre in teoria. Ma mi spiace un po' perché sta che un po' effettendo la cosa e la curiosità mi aumenta. Ma comunque ci vediamo tra pochissimo. Bacetti dai! Eccoci qui, bentrovati a tutti, bentrovati, bentrovati, bentornati e bentrovati. Ovviamente i miei appunti non possono mai mancare. Non perché mi servono, ma perché non voglio dimenticare niente, niente di niente di niente di niente. Sì, l'inquadratura fa sempre un po' ridere, è vero? Non fa niente, non fa niente, non fa niente. Allora, siamo rimasti, capitolo 9. Siamo rimasti appunto che insomma Sam aveva scoperto un po' di cose che accadevano. Era riuscita anche con un po' di furbescheria, furberia, a farsi dare, mandare la planimetria dell'intero campus. E quindi scoprire che nei sotterranei c'erano due ale, est e ovest, molto lunghe e profonde. È riuscita anche a visitare una parte dell'ala est dove ha detto Mamma mia signore del cielo, aiutami tu. Perché? Perché c'erano tante celle dove c'erano alcune, noi chiamiamo ma amorevolmente, mostruosità che erano sempre preda, grida, urla, perché erano tutte delle prove prima della perfezione. Cioè Sam, eravamo rimasti qua. Invece poi c'erano in altre celle dei ragazzi, o ragazze, vabbè, normalissimi, però completamente sedati, quasi in coma farmacologico, oserei dire. Ecco, siamo rimasti qua. Poi, quando Sam era appunto ad esplorare, scusate, ho sti cappelli, sempre io, adesso però ho fatto anche i mestieri, sono un po'. Quindi Sam, quando si è trovata lì per esplorare appunto queste ale est e ovest sotterranee del campus, però è stata disturbata appunto da questo avvicinamento continuo di carrelli che sentiva, eccetera, eccetera, non poteva farsi beccare lì. Perché già era a conoscenza che loro sapevano che lei sapeva da quella volta che è svenuta, ahimè, inseguendo Rubi, cercando di capire la sua amica Rubi dove finisse, che poi si è capito. E quindi niente, è venuta a tornare in camera, è rimasta un po' con il va li va là. Ah, quindi rimaniamo, questo è il rassunto episodio precedente, quindi rimaniamo che lei cosa fa? Testarda com'è? Decide di intrufolarsi di nuovo nell'ufficio del signor Brina per fotografare altri documenti il più possibile e prendere quelli che le sembrano più in fondo, quelli che non si prendono mai, sapete, no? Quelli più impolverati per dire, tipo, sì, sono lì ma non li uso, eh? E le prende cartacei. E sappiamo anche che, sa, mi ha scoperto, e poi ecco perché i genitori di tutti gli studenti, se non uno, entrambi i genitori, lavoravano tutti per lo stesso laboratorio, no? Perché era tutta una critica per creare la Frankenstein, no? Ecco, tipo, è da utilizzare come bomba mondiale, non lo so, ecco. E... Ed erano appunto stati rapiti, appena nati, dall'ospedale, dopo un baglio mostruoso, cioè erano stati bagliati uno per uno, DNA, non DNA, per dare il massimo, per creare il Frankenstein, cioè Sam. Quindi, erano tutti i genitori di questi ragazzi, non erano i veri genitori, compresi quelli di Sam, appunto. E fino a qui ci siamo. È problema che Sam, la nostra protagonista, quando torna nel suo alloggio e sbircia foto di documenti, ma soprattutto apre quelle cartelline nascoste in fondo che lei ha osato prendere tutte, che lei ha rischiato, eh? Perché se la betta lì, proprio... Scopre che, ahimè, quella cartellina lì è sua. Una rossa, di colore rosso. È sua. Stesso nome, ma non stesso cognome. Dato di nascita esatta, luogo di nascito esatto, fotografie non solo fetali o nel grembo della madre, ma anche da più grandicella. Era lei. Il problema è che il cognome non era suo. Il cognome di Samy faceva brina. Rimase sconvolta. Forse, meno di come lo sono rimasta, io non leggerei questo vostro commento di suggerimento. Rimase sconvolta. Perché? Si spiegò tutto, ve lo riassumo ovviamente, che lei era nata, in realtà, tra una relazione tra il signor Brina, cioè il rettore del campus, quindi il capoccia di questi laboratori particolari, e un assistente. Già, già. Era nata, ma era nata malforme. Samy, molto malforme. Perché il signor Brina, il caro amantino marittino, quel che l'era, sulla donna incinta, la madre incinta, faceva già degli sperimentucci. Quindi Samy nasce molto malforme, estremamente malforme. quindi in combinazione, in comitanza, con l'esigenza di collaborare per fare questa bomba atomica, tra virgolette, come dico io, di Frankenstein. E l'esigenza, in comitanza, di sta figlia, metterla in ordine, e non lasciarla deforme, ecco qui, che nasce Samy, e tutto questo burdel. Giusto? Bene, mancano pochissimi giorni al nuovo test di preparazione al campus, che, come sapete, ogni circa 20 giorni fanno per vedere, appunto, la preparazione degli studenti, chi ne vale la pena, chi no, ma in realtà, perché dopo circa 20-23 giorni, Samy va cambiata, va rinnovata. e quindi, tempo stringe, lei ha scoperto anche questa cosa qui, che la manda fuori di testa, dice, ma che caspita sta succedendo, ma scopre una roba, una dietro l'altra, una peggio dell'altra. E niente, quindi, aveva bisogno di un tempo per investigare di più. E allora, qui in mentalità un po' femminile, decide di distrarre dalla sua attenzione i vari capoccia, professori, rettore, eccetera, inizia ad appiccare dei piccoli focolai, pensate quanto è furba, l'avevo detto, dentro il campus in piena notte facendo suonare le allarmi. Quindi, tutti i capoccia, tra virgolette, avevano questo pensiero di capire ma che diavolo è che fa sta roba qui? Cioè, adesso ve ne è tutto. Inoltre, inoltre, quando nota Sammy e questo lo fa andare per un tre, quattro giorni per guadagnare tempo mentre studiava meglio le carte, ma soprattutto perché stava studiando il suo piano diabolico, che in realtà diabolico non era, lo fa andare per tre, quattro giorni e poi, e poi. Come dice, questi hanno già capito che sono io, perché io so se la tiro troppo alle lunghe. Allora, finge anche addirittura di aver subito da una, un essere strano, che sembra un uomo ma non è, grosso, un'aggressione. quindi viene messa in tutela, non sotto chiave, ma in tutela ed è quello che voleva perché riesce a uno dei vigilanti, tun, 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 che fanno così tutta la notte davanti alla sua porta, riesce, quando si addormenta il vigilante, chiamiamolo così, a sottrargli le chiave, torna giù di corsa nell'ala est, la parte che ha visitato, che neanche è tutta, eh, e ha pensato, a parte ad aprire le celle a tutti i poveri ragazzi in coma farmacologico e strappargli gli aghi dalle braccia, insomma, fa in modo che rinvenissero e poi qualche sia sia. E poi ha pensato, ma questi esseri deformi, che mi spiace dire questa parola, però per farvi capire, ma hanno un'intelligenza, hanno un'umanità, quindi di sicuro non saranno mica vengono a prendere con me o con tutti quelli gli altri che non c'entrano, niente, e di sicuro se la vanno a prendere quei responsabili che li hanno ridotti in quello stato. Risco e pericolo? Risco e pericolo. E così fu, così sia. Sami apre un paio di porte in questi dolcissimi mostri. Ecco, perché a me mi spiace dire se no. Ecco. E eh 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 ragazzi miei non sbagliava Sami, i poveri malcapitati, ok? Montati male, dai, diciamo così, si iniziano a invadere il campus di Oriland e autoliberarsi in tutte le Ale, Est e Odist che erano infinitivamente lunghe. quindi prima di passare se ho detto tutto ragazzi, scusate quindi prima di attendere i vostri commenti per il capitolo decimo cioè quello finale riuscirà Sami a salvare i ragazzi quelli sotto sedazione ancora insomma trasportati lì che non sanno niente e e e rischiano la pelle ce la fa? ce la farà? Sami riesce a stringere un patto con queste anime differenti diciamo creati in laboratorio di insomma di dire vi lascio liberi ma non dovete mai 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 uscire dal campus di Oriland se me lo stringiamo il patto e me lo promettete io farò in modo che nessuno venga a scovarvi a darvi fastidio la stessa cosa a voi con l'esterno ce la farà convincerli ci vediamo la prossima settimana con il nostro ultimo e decimo capitolo baciati in aria e grazie a tutti la prossima